Il 27% delle imprese italiane è core green, cioè produce beni e servizi ambientali, è fra le migliori performance europee. Tuttavia abbiamo un dato preoccupante alla vigilia della conferenza di Parigi che per la prima volta dopo anni di crescita ininterrotta l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili nel 2015 sta diminuendo per l'effetto combinato della riduzione della produzione di energia idroelettrica e l'aumento della domanda elettrica in rete e quindi diminuiranno a fine anno il percentuale, è un brutto segno alla vigilia della Coppa sul clima di Parigi.